Ciao, oggi l'Evangelo scopre cosa fa fondamento, focus della nostra vita. Questo di portare il frutto, di diventare questo che è davvero il nostro potenziale. E Gesù, l'Evangelo oggi, parla degli pericoli, parla dei sbagli, parla quando non troviamo questa via. Quando non scelgo questo che è così naturale, perché il seminatore vuole seminare così che il semo porta il frutto. Quindi porta questo sul campo, proprio per fare grano, crescere, per fare ogni pianta di noi. Ma adesso cosa succede? Perché questo che lui fa? Che noi possiamo dire, ma no, io non voglio questo, io voglio qualcosa altro. E nell'Evangelo è usata la forma attiva per il seminatore, lui semina, seminatore semina. E anche per l'uomo. L'uomo sceglie, cado qui o cado là. Gesù lascia questa scelta, fa vedere dove è il scopo, ma non può impedirne di scegliere diversamente. E dice cosa succede? Pensiamo che il semo vede, va bene, qui ci sono tanta gente, questa strada, inspira a me. Oppure quella bella roccia, è così bella. Qui, questo è il mio posto. Ma invece no, il posto, il grano, dove trova davvero il suo potenziale e può crescere, è la terra. Adesso la questione è quando porta. Gesù non dice che bene, meglio, 60, meglio 30, meglio 90. Ma è l'unico posto dove può portare il frutto. Quindi questo Vangelo è molto, continua come questo tema che era, di quale ho commentato ieri. Che adesso una domanda per noi? Come fare? Come portare il frutto? Come scegliere l'ambiente, cosa è il nostro ambiente migliore per portare per noi la frutta? Condividi come tu capisci questo.